Troppi giocatori, vediamo, ancora Fiazza si libera, va il tiro ed è rete, e l'avevo detto, insistente, insistente l'azione del Serenio che... Mandarini, 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 scatto bruciante, non riesce, l'ultimo, l'ultimo, il Filippo Dimone, adesso ancora Poli e Poli, 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 libera, passaggio, passaggio... Nella porta di Comin che però riesce a parare, adesso Mandarini, Mandarini, serve Ballardin, Ballardin, Ballardin... Poco più, Rigo, ma Ballardin entra in area, si trova... Miozzi all'esecuzione, Miozzi all'esecuzione, Miozzi all'esecuzione al 24... E' incanalata a ritmi notevoli, Poli, 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 sblocca di nuovo al primo minuto di gioco... Miozzi, ben indirizzati, recupera la palla Poli, Poli detiene, Poli... Poli detiene, giugno 7 all'ottavo minuto, ottavo minuto, 7 detiene, deve fare di più per segnare, vediamo... E infatti, eccolo, eccolo qua, eccolo qua, al 37esimo, 37esimo della palla... Rigo, Poli, Mandarini, Mandarini si gira... Nulla da fare, ribatte Dimone, la pallina ritorna, Mandarini... Che in caduta libera, questa volta non sbaglia, ha un metro dalla luneta... Rigo, Rigo, tiro senza pretese, raso terra, para Dimone... E questa volta, dalla vecchia, forse si tuffa, si aspettava un tiro molto più forte... Rete di Riva, il passaggio... Girata, passaggio a Rigo, palo... Conclusione di Mandarini, vedete... Rete di Mandarini al 48esimo... 48esimo del...